Ancora un giocatore del Palavagnolo 89, Ricciardella, allora una partita, una bella vittoria, sicuramente serve per proseguire questa lotta per andare in zona playoff, no? Assolutamente sì, ci teniamo tantissimo visto che era una delle dirette concorrenti per la zona playoff, importante soprattutto per il morale e anche per il mister, visto che era una nostra cosa in termini spolatoio, ci teniamo soprattutto per noi. Come hai visto questo Maranola? Maranola l'ho visto abbastanza bene, anche se nel senso tempo l'ho visto un po' calati dal punto di vista atletico, l'ho trovato meglio all'andata. Adesso le prospettive per voi rispetto a qualche settimana fa, anche perché vi ho visto qualche settimana fa qui in una partita in casa con lo Spigno, ma non per voi, per Maranola che comunque dovete giocare con lo Spigno, squadra sicuramente molto robusta che vi darà fastidio. Sì, assolutamente, una squadra ostica, l'andata ci sono state anche delle piccole schrezze, anche dopo tutta la squadra, speriamo che questa volta riusciamo ad avere la meglio con un'altra pretendente per la zona playoff. Sicuramente. D'accordo, in bocca al lupo alla prossima. Grazie, ringraziamo il Palavagnoli e il mister soprattutto per quello che ci dà. Grazie. 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 Grazie.